Sindaco, qual è l'obiettivo di questo progetto Patto per la lettura? L'obiettivo è quello di coinvolgere la città nella lettura, perché purtroppo in Italia non si legge molto, anzi si legge molto poco rispetto agli altri paesi europei, e l'obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili in modo tale da creare una vera e propria democrazia della lettura, cioè il coinvolgimento delle persone che oggi non si dilettano nella lettura. Invece è fondamentale leggere perché la lettura ti permette di vivere tante vite, di vivere tanti sogni, e in questo momento noi abbiamo bisogno di sognare e di vivere anche vite diverse rispetto a quelle che vediamo intorno a noi con tragedie epocali che sicuramente ci segnano. Questo progetto, anche grazie all'assessorato della cultura, avete coinvolto associazioni cittadine? Sì, perché Pescara è una città molto effervescente da questo punto di vista. Noi abbiamo molte associazioni che operano nel campo della cultura e in particolare nel campo della lettura. Come si vede da molte presenze, di persone che stanno firmando questo patto. Ma l'obiettivo vero, finale, è proprio quello di coinvolgere la città nella lettura, così come avevamo fatto quando abbiamo presentato il progetto Pescara città della lettura 2022, dove ci siamo qualificati per la finale. Purtroppo non abbiamo vinto, ma già essere arrivati in finale in Italia vuol dire aver fatto molti passi avanti, aver scelto una linea chiara di coinvolgimento di tutto il territorio per la cultura e per la lettura. In questo modo proseguiamo.